Questa alta, pensando che quando ho avuto la possibilità di giocare con una certa continuità, e non sto parlando di 15 anni fa, sino anche 7 mesi fa, il campionato scorso sono riuscito a diventare il capocannone che sta giocando in questa squadra, non giocando anche sempre. Quindi mi sentivo all'altezza anche per quest'anno. Purtroppo non sono stato scelto, ma questo è così. Non è che ti devi fare una colpa a qualcuno perché non è così. Ognuno ha i suoi propri gusti calcistici, ognuno ci vede tutti i giorni, quindi misura e crede, e va rispettato. Questo non è assolutamente una piccola, e questo fa parte del tassi. Tante volte ho fatto panchina, tante volte ho giocato tanto, e tutta la mia carriera, sicuramente con Roma non è il primo e l'ultimo a mandare panchina. Quando tu capisci che le cose vanno in un certo modo, è giusto. Il Parma sta bene, il Parma in questo momento è in seduto, il Parma naviga, ripeto, a metà classifica, possono andare via tranquillamente. Sicuramente se ce ne ha bisogno, questa decisione non la prendeva. Questo è il primo di anni. Io volevo dire, il terrestre governo ha già risposto, dicendo che non c'è bisogno di un contratto, ma cosa vi immaginate come un giocatore con questa storia per il Parma? Cosa può fare in futuro, al di là di quelle che potranno essere i suoi desideri? Io dove l'ho detto in apertura, quando ci siamo conosciuti gli ho detto che se veniva a Parma facevamo un investimento sull'uomo, ma in quel momento soprattutto sul giocatore. Non abbiamo voluto prendere Ernal, perché fosse una testa tuina, e l'ha dimostrato poi fatti, perché abbiamo preso un momento di difficoltà e ci siamo risollevati, e appunto con orgoglio ho detto che l'anno scorso è stato il capocannoniere della nostra squadra. Non ciò vuol dire che anche io con Ronaldi l'avevamo visto bene, non avevamo fatto un'operazione simpatia, come qualcuno aveva detto a suo tempo, ma avevamo fatto un'operazione tecnica. E questo per me, soprattutto per Ernal, credo di essere un'operazione simpatia, forse anche qui qualcuno aveva sbagliato e sottovalutato, come spesso succede, i tempi e le modalità. Perciò io sono orgoglioso di averli portato Ernal a Parma, il calciatore Ernal Crespo, e sono orgoglioso di essere qua al suo fianco e sentirevi dire delle cose che mi aprono il cuore, perché anche quando si vuole puntualizzare su contratti, i miei contratti, mi sembra che sia stato chiaro. Io e lui ci siamo sempre dati la mano e abbiamo sempre fatto poi mettere il mero su bianco, dove c'era necessità giuridica, i documenti. Lui sa che quando vuole viene qua, c'è un contratto per fare quello che metteremo insieme più opportuno. E' chiaro che magari come calciatore che senza magari ha tanto da insegnare a me, ma è la dirigente qua così che ce l'ho da insegnare io, perciò questo mix potrà essere poi vincente e perciò se verrà qua a far parte della nostra squadra, con Pietro, con me e con gli altri dirigenti nostri, si deciderà insieme quello che meglio vorrà fare. Ripeto, così se ne contenti, questo è un contratto, perché ci siamo dati la mano, ma è già un contratto. Però mi sembra bello quello che abbiamo detto prima, che le motivazioni che lui ha, l'attaccamento che lui ha a tutto questo ambiente, vale molto di più di un semplice contratto. E confermo, anche se non c'è bisogno, che la sua è stata una decisione volontaria, perché se lui avesse già accordi con altri club, come funziona in tutte le società del mondo, si faceva un trasferimento. Perciò lui ha scelto, aveva queste scelte senza avere nessuna certezza, perciò non ha referito altro a questo, ha preferito, come ha detto, fare un passo indietro, e adesso vedrà cosa vuole fare. No, credo che quello che lui ha detto ci sia poi come da più. Allora, io sono a chiedere questo, intanto allargo la domanda anche ai miei genitori, credo ogni tanto che sia bello che parliamo una storia di questo tipo, oggi c'è ovviamente un po' di tristezza, però quello che c'è dietro significa che c'è un problema aperto, le varie altre storie che credo facciano comunque bene al calcio. La domanda che ti faccio invece è, è leggerissima se per caso ci fosse l'occasione di festeggiare comunque, magari come una partita a tardi, ci potrebbe andare bene come un paio d'attacco, un certo Tino colombiano, sicuramente, tutto sicuramente, solo che ci sarà un po' più lento, no, no, si vedrà, si vedrà, c'è la parte della sedicata di fare sicuramente qualcosa di speciale il suo rovuto momento, magari nell'immediato, senza calciarmi in pantaloncini, magari nell'immediato, un bel saluto ai tifosi, dentro a tardi, vorrei farlo, ma questo ci vedrà, vediamo di, magari farlo, al più presto possibile, perché non la prossima partita, con la futura di casa, ma se ci siano le possibilità di poter salutare, da dentro il campo ai tifosi, sarebbe ben gradito, però, non con i pantaloncini, però, e melli in panchina, quello più avanti, e melli in panchina, lo devo far giocare, perché già, se no, poi si vedrà, poi dopo quello che succederà, si vedrà, non so cosa, cosa farò, non posso parlare, perché mi sono partita, viviamo un po' la giornata, oggi già poco, pesante per me oggi, perché, però, è la parte della vita, quindi si prende anche con lo sorriso, con una cosa, ma, un nostalgico, un sentimentale come me, è un po' pesante, come si faceva, quindi, si va, si guarda avanti, si va. No, io avevo una domanda di quella, le cose, io devo solo, semplicemente chiedere, se in futuro, hai pensato di allenare, anche se, è una delle possibilità, sicuramente, poi il patentino, sì, ho fatto il primo patentino, quello che si può fare, che fa il titolatore, che vuoi fare B, sicuramente, è una cosa, che farò, studiare, diciamo, il commerciale, fare il massa, tutto quanto, lo vediamo, fare, poi vediamo, cosa succederà, sicuramente, oggi mi sento più, mi sento calciatore ancora, non potrei, non potrei, oggi dire, quello che farò, oggi mi sento calciatore, ma è normale, che, conoscendomi, che, il campo è la vita, quindi, sono destinato, a, a farlo, sicuramente, però vediamo, vediamo, non posso dire, non posso sbilanciare la vita. Ci sono altre domande? No, cioè, se non è un video finito, soltanto, per avere una domanda, questo? Sì, sì.